Accolto dai giudici ricorso d'urgenza, ha ripreso oggi l'attività dell'aveco di Martinsicuro. In attesa del giudizio nella sede collegiale, il presidente Antonio Amicuzzi ha accolto l'istanza di adozione di misure cautelari monocratiche, ritenendo che sussistono le ragioni di estrema gravità e urgenza tali da consentire la dilazione fino alla prossima Camera di Consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare prevista per l'11 maggio. In attesa del giudizio nella sede collegiale, la fonderia, ferma a causa di una determina dirigenziale della regione che ha bloccato la produzione, ha ripreso l'attività ma è ancora in attesa dell'autorizzazione edilizia. C'è un'azienda che investe, sta facendo degli investimenti per ridurre l'impatto ambientale così come è richiesto dall'AIA, ma dall'altra parte c'è una burocrazia che impedisce questi investimenti perché se da una parte la regione chiede che vengano rispettate le prescrizioni dell'AIA, dall'altra sembrerebbe la sovrintendenza ai beni culturali non rilascia i permessi per poter costruire e quindi per poter rispettare a pieno quelle che sono state le prescrizioni dell'AIA. Noi ci auguriamo che l'11 maggio venga definitivamente accolto il ricorso al TAR ma altrettanto e ancora di più ci auguriamo che più presto arrivino le concessioni edilizia per poter far sì che l'azienda in maniera tranquilla possa riprendere definitivamente la produzione. La lotta dei lavoratori comunque ha consentito già a gennaio di riprendere la produzione, oggi vogliamo che quella coproduzione rimanga perché il nostro territorio non può permettersi neanche la perdita di un posto di lavoro.